Ehi la turma, io sono Mazzatest e benvenuti in questo nuovo episodio di Abandon Ship Allora, visto che in genere queste isolette ci lasciano un pochettino di novità su cose Diciamo che le proveremo insieme Ma si sente qualcosa dell'audio? Poco, poco Ok, ci sono le Alifron Nest, va bene Abbiamo distrutto un po' di nidi di Alifron Vediamo se anche qua riusciamo Accult Lave Ship Ok, c'è una navicella di schiavi Ok, dobbiamo prenderla senza farla collare a picco in modo che non muoiano gli schiavi Pronto? Sta crescendo? No Allora Non sarà facile, perché loro sono in 6 più almeno 2 Alifron Allora io direi che Questo lo posizioniamo qua Quello lo posizioniamo là E spariamo soltanto al Sartiame Non dovremmo causare troppi danni Alla nave così facendo Vediamo un po' Allora, il mio obiettivo è quello di far venire prima gli Alifron Niente, stiamo facendo troppi danni, mi sa Oh, libera il medico per piacere Anche tu libera il medico Ah no, il medico è lui È quello che si è fatto male Allora, aspetta, facciamo una cosa diversa Ah, in realtà voi due liberate lui E tu lo curi Poi direi ci Teniamo vicini Tu vai con questa E spara alla gente Ok, Alifron Allora, quindi il medico lo mandiamo qua sopra E allora Questi Hanno su questo Alifron E questi altri due qua Sull'altro che arriva da qua Ok, allora Quello è tranquillo Quindi direi che mandiamo questo Spegne il fuoco Allora Tu vai qua dove non dovresti avere problemi Voi due andate qua Tu vai a curare lui E tu sei a posto Ok Ok Datevene via Ok Tu vai a curare Allora Non è facile Medico Vai qua Questi Andate qua Allora Tu in realtà dovresti andare Allora Non so Non so La situazione è molto complicata Non so Sicuro che avrò la meglio Su di loro E Autoguida Medico Vai qua E Il capitano Liberi questo Ok Vedete il medico Allora 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 Il mio medico è bloccato il medico, porca miseria Appicchiate tutti lui intanto Voi liberate lui Allora, liberate lui Porca miseria No, rianimalo Porca miseria Ovvio Non sono rimasti meno di noi, dovremmo Potercela fare, no? Porca miseria Se La smettessero No, l'ho uno Ok Porca miseria E saltiamo su con questi Ok Ok Cavolo, non posso neanche ritirarlo su E non posso Ma Quattro morti Giusto per prendere un 20% in più Mannaggia che fregatura Avevamo dei buoni soldi Adesso dovremmo rispendere tutto per Livellare altra gente Sì No medico No combattente No cannoniere Ah, anche il conducente della nave ci manca Abbiamo andato Spendere tutto quello che avevano guadagnato Per cosa poi? Per niente A che punto siamo di questa versione? Scusate, mi sono parlato poco Come sono davvero un po' amareggiato Dove andiamo? Dai Chi se ne è ormai andato Quel che è andato è andato Su o a destra? Facciamo su? Sì, facciamo su Facciamo prima di avere qualche combattimento base Per fare le serie di livello No, vabbè Proviamoci lo stesso Un salvataggio c'è Dovrebbe Bastare Ah, qua no Dobbiamo proprio andare qua Vabbè, dai andiamo là Magari si può andare anche poi a destra Boh, chissà Scusatemi Proprio un po' C'è un faro? No, non c'è un faro Chissà se c'è una cittadina Qua non è sotto il controllo del culto Però potrebbe essere che il La città sia bloccata Il porto sia bloccato Facciamo un'esplorazione completa Pian piano Di tutte le circondarie Che mi sembra una buona Buona, 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 buona Buona cosa E Allora qua Ok, buona Dei pesci Della felicità Ci serve Perché con la batosta che abbiamo preso È stata una bella fregatura No, no, no Non voglio comprare delle risorse Abbiamo già in quantità industriale Non era chiaro più che altro che Bisognasse cliccare di nuovo Ho provato a lanciare gli altri L'abordaggio Ma non mi facevano salire Allora ho detto Boh Non lo so Probabilmente perché sono bloccati Invece c'erano gli speroni Che ci tenevano distanti Dovevamo riattaccarci un'altra volta E E niente Sbagliando si impara Dicono Per cui Andremo avanti Abbiamo speso quanto? 500 Sì 500 per la gente Che avevamo perso In battaglia Per fortuna Avevamo un po' di soldi da parte Ecco Così non abbiamo dovuto Far fatica È una buona cosa Quello di tenerci sempre da parte Un po' di Un po' di Soldini Ecco In modo da Avere comunque Un piano secondario Allora potevo mettere in pausa Effettivamente Sta parte qua Ormai mi sono dimenticato Nulla Non c'è assolutamente nulla Abbiamo esplorato Tutti 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 Pezzettini Ma non c'è nulla Allora Abbiamo bisogno di Fare quanti? 8 eventi Ma 8 eventi Sono tantissimi Allora vabbè Più che altro sono tanti Per il fatto che non possiamo Curarci nel mentre Facciamo quelli più Innocenti Tipo questo Ok C'era C'erano delle Proviste Qua questi punti scroativi Ho paura Potrebbe capitare un po' di tutto Andiamo a vedere la Nave che sta affondando Laggiù C'è stata una battaglia Vediamo un po' No niente Nessun esito Però almeno abbiamo 4 cose 6 su 8 Andiamo su questo qua Della riparazione Così siamo 5 No E Ce n'è una Danneggiata Andiamo a vedere Prima quella E poi ci servirà Fare due combattimenti Standard Cioè combattimenti Poi non è detto Che siano combattimenti Come abbiamo visto Quelli sono abbastanza Generici Non vorrei andare A fare uno dei due Eventi del culto La È vero che potrebbero Portarci avanti Con la missione Ma ho paura che Poi non abbiamo Un modo di riparare La nave Andiamo ad aiutarli Ok Ottimo Ci siamo fatti Un amico Più 46 Andiamo con questa No ok Non volevamo attaccarli Ottimo Evento tranquillo E vediamo questo ultimo qua Mi pare che sia l'ultimo Che possiamo fare Allora sì Senza Andare contro il culto Sì Ecco Dicevo prima Non vorrei andare Contro il culto In questo momento qua Perché non abbiamo Un porto di backup E probabilmente Prenderemo tanti danni Cavolo Ok Era un'imboscata Però mi sembra Non troppo fornita Allora Tu stai qua Tu cannoniere Stai qua Tu stai qua No beh Là Va anche bene Cavolo Che Bordata Ma questo è quello nuovo O è quello vecchio No questo è quello vecchio Quelli nuovi sono gli altri Mi sa Bestia Bestia pure l'incendio E dire che l'avevamo rinforzata Contro gli incendi Sta zona No No Ripara questo Cura lui Aio Fortuna che non siamo andati Contro i cultisti Perché qua Prendiamo tantissimi danni Mi sa perché Non abbiamo la gente Fortissima Come era in passato Ottimo Ho visto comunque Che ha resistito Il fuoco Questa volta No Cura lui Lo scafo Ci pensa Lui a ripararlo Che tra l'altro Forse era uno Già morto Sì Va bene Ci arrendono Ottimo No il problema è che Nella prossima area Potremmo avere Dei problemi Visto che abbiamo Un quarto di danno Allo scafo Vabbè Vedremo nel prossimo episodio Comunque a questo punto Dove sono passati Già 20 minuti Io vi auguro Una buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti